Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco l'ancella del Signore. Si faccia di me secondo la Tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, la Tua grazia. Tu che all'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi per la Sua passione e la Sua croce di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna di Siponto nel tempo della prova. O Maria, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa, generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a Te con il titolo di Vergine Santissima di Siponto. Guarda a noi, i Tuoi figli, in questo tempo di preoccupazione e di sofferenza per il contagio che alimenta la paura, ostacola le relazioni ed impedisce la normalità delle giornate. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei uscita dalla Tua casa per essere vicina ad Elisabetta, soccorrici nella nostra fragilità. Visita i malati, illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal Figlio Tuo, Gesù Cristo, la liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna Santissima di Siponto, veglia sul Tuo popolo. Dona sapienza ai governanti e agli amministratori perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, gli infermieri, i medici che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Ottienici dal Signore la benedizione della Chiesa. A partire dai Suoi ministri, rendila segno e stupendo della Tua luce e della Tua bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, consapevoli dei nostri peccati, ci affidiamo a Te, Madre di Misericordia. Accresci la nostra fede. Accompagna le famiglie. Rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli. Preserva gli anziani dalla solitudine. Fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento. intercedi per i poveri. O Vergine Santissima di Siponto, accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A Te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi o chi Tu è misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo Seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Grazie.